Torna in quest'estate 2018 il Teatro Povero di Montichiello in Val d'Orcia, un progetto sociale e culturale nato negli anni 60 che quest'anno va in scena con il 52esimo autodramma. Il nuovo testo, intitolato Valser di Mezzanotte, ideato, discusso e recitato dagli abitanti attori, è stato presentato a Firenze da regista Andrea Cresti con la vicepresidente della regione toscana Monica Barni. Il titolo fa riferimento a un Valser degli anni 50 che parte in minore e poi evolve in tonalità maggiore. Quel passaggio è il passaggio dalla notte al giorno, questo è il senso dello spettacolo. Noi vorremmo rappresentare o avremmo voluto, non lo so, questo lo direte voi, rappresentare la condizione di difficoltà che stiamo vivendo ora, che è una difficoltà reale oppure una difficoltà percepita al di sopra del reale ma che comunque ci colpisce intimamente. Oggi è fondamentale tornare in piazza, è fondamentale rendere le persone, le comunità protagonista, cioè le persone che poi diventano attraverso la cultura comunità. Credo che l'esperienza di Montichiello sia una delle migliori esperienze nel nostro paese ma anche oltre il nostro paese di davvero coinvolgimento delle persone nella costruzione di un percorso comune. Il Valser di Mezzanotte andrà in scena in piazza della Commenda Montichiello da sabato 21 luglio al 14 agosto.